Secondo me è rosa, secondo me è rosa, però forse è bello, ma a parte le mie ricognizioni mentali Ciao a tutti, video acquisti, questa volta della domenica, non del sabato, due sulle cose, quindi sono stata molto molto brava e due cose completamente diverse tra di loro, sono impazzita per la cancelleria, sono uscita fuori di senno e quindi appena ho visto queste cose qui, che adesso vi mostro, da Assessorize, quindi vabbè, già parliamo di cose super libera e graziosissime non ho saputo resistere e devo dire che hanno un reparto di cancelleria fantastico, quindi non entrate da Assessorize Sto parlando di loro, eccoli qua, sono deliziosi, sono sì degli evidenziatori, adesso li faccio vedere, li faccio vedere uno da vicino quindi ha un delizioso coricino, qua c'è il tappo, ho sempre il problema di aprire, questa volta si è aperto e come vedete c'è un bellissimo evidenziatore rosa, non vedo l'ora di decorare la mia agenda e ovviamente di fare una cosa carina se vi interessano decorazioni, organizzazioni dell'agenda, fatemelo sapere in un commento, magari vi faccio un video di come sto organizzando la mia Doki, comunque devo fare ancora il video presentazione, sì sono uno scandalo, ma arriverà presto anche lui beh, chi dire? non dico nulla ve la faccio solo vedere così così capite tutto questa è la parte dietro, ovviamente io da cosa parto? ok e questa è la borsa cioè ci sta solo lei ma è fantastica, giusto così e quindi sì, è la mia borsa di Victoria Secret e basta che dire, niente e lei l'adoro e non vedo l'ora di usarla perché ho detto facciamo il video così spacchetto e spacchettiamo perché all'interno ovviamente loro mettono le venine fucsia, rosa, anche la busta è una cosa deliziosa quindi adesso posso buttare la busta a vedere di riciclarla in qualche modo e finalmente utilizzare la mia come se posso utilizzare la mia Victoria Secret perché non vedevo l'ora quindi ragazzi che dire i miei acquisti della domenica finiscono qui perché e se volete vedere altri video ve li lascio qui nell'info box e fatemi sapere appunto che cosa ne pensate io doro Victoria Secret e domanda ecco questo è tutto dai per questa volta sono stata molto brava diciamo così e io vi saluto e se vi va comunque sbirciate sempre nell'info box trovate Instagram e Facebook ovviamente il link a Instagram dove pubblico delle foto carine se vi va insomma mettete anche un like dove io pubblico e condivido vari eventi di make up sempre un occhio Facebook perché come vi dico se trovo questi eventi ve li pubblico là e anche voi ci potete andare io mi sbizzarrisco su Facebook ecco non l'ho potuto fare come attività lavorativa e su Facebook io mi diverto veramente tanto quindi non solo di make up di cibo per esempio c'è stata anche l'apertura di Primark del famosissimo ormai centro commerciale ad Arese quindi ragazze guardatevi Facebook e ritrovate tutti gli eventi insomma più interessanti che ci possano essere sì sì bantiamoci ogni tanto quindi potrete trovare qualche evento carino e perché no anche molto simpatico perché se ci danno degli omaggi noi siamo anche più contente con questo è tutto io vi saluto ci vediamo al prossimo video se vi va ciao ciao